È primavera e c'è tanta voglia di natura. Se non avete la fortuna di possedere un orto o un giardino, necessariamente non dovete privarvi del piacere di crearvi nel vostro terazzo un piccolo orto o un piccolo giardino. Cosa ci serve? Un bancale, dell'aiuta, una forbice per tagliare l'aiuta, delle puntine da disegno per fissare le tasche del bancale, le nostre piantine e del terriccio. Tagliate un pezzo di aiuta della dimensione dello spazio vuoto del bancale dove andrete a creare la tasca per piantare le vostre piantine. La inserite facendola aderire alle pareti e poi la fisserete con delle puntine da disegno come in questo caso. Ora andremo a piantare le piantine nella tasca che abbiamo già preparato. Mettendoci sotto un po' di terriccio, Per il nostro piccolo orto delle aromatiche andranno benissimo e vi permetteranno di avere a disposizione gli aromi da utilizzare in cucina durante tutto l'anno. Poi, ancora con del terriccio, andremo a riempire bene la tasca tra le piante in modo da occupare tutto lo spazio. È importante, dopo il trapianto, nei primi giorni, apportare la giusta quantità di acqua. E buon orto a tutti! Grazie a tutti!